Il 7 settembre 2019 a Bardonecchia, su Greto del fiume Dora, venne trovato un cadavere sconosciuto di sesso maschile in avanzato stato di decomposizione. Il personale della squadra sopra luoghi del Gips di Torino effettuò specifici rilievi connessi al ritrovamento, riuscendo a recuperare alcune impronte digitali dai resti in decomposizione. L'attività di ricerca dei pochi caratteri papillari presenti ha consentito di riconoscere una fotosegnalazione di forte compatibilità con il frammento in esame. Dopo una fase di verifica delle corrispondenze è stato possibile stabilire che la persona ignota era un cittadino tunisino. Un tatuaggio raffigurante alla lettera K presente sulla mano sinistra della salma risultava altresi indicato su alcune schede datiloscopiche di percenti fotosegnalazioni. E' stato quindi contattato il consulato di Tunisia Genova al fine di trovare i familiari in modo che la salma potesse essere restituita ai propri cari.